Gianni Colacione per Libri.tv Tra gli intervenuti c'è stato anche il professor Giorgio Taffon che ci dirà come è coinvolto in questa trasposizione teatrale che andrà poi a essere inscenata alla Domus Talenti a breve, professore di letteratura teatrale e moderna. E ha espresso un concetto interessante che vuole appunto che ci sottolineasse qui riguardante il linguaggio che Piero utilizza appunto nel suo romanzo Ocean Terminal e ha parlato di tridimensionalità del linguaggio. Ecco, ci vuole sottolineare, anzi meglio spiegare di che si tratta? Sì, parliamo di tridimensionalità del linguaggio in questo senso, cioè che un'opera letteraria quando è scritta può essere scritta perché venga essenzialmente letta, quindi letta dai lettori. Un altro tipo di linguaggio che noi possiamo trovare, voluto dall'autore stesso, può essere un linguaggio interessante anche a essere detto oralmente. Infine c'è anche una lingua scritta che è adatta ad essere agita sulla scena, a essere agita dal corpo dell'attore. Questa è una specificazione molto importante ma soprattutto importante proprio per chi vuole scrivere per il teatro e che deve sapere proprio tenere da conto questa distinzione. Un conto è scrivere per chi leggerà con la sua mente, con la sua fantasia, ricreando nella sua mente quanto legge. Un conto è scrivere perché poi ciò che è scritto venga detto oralmente. E un altro conto è scrivere perché ciò che si viene a scrivere venga, ripeto, venga messo sulla scena, venga agito. È una distinzione fondamentale per scrivere bene per il teatro. Non è caso propriamente di Welby. È un'operazione che noi abbiamo fatto su un Welby che senza accorgersene ha scritto anche perché venga messo in scena, venga agito sulla scena da un attore. Quindi praticamente io diciamo molto semplicemente con gli strumenti che ho posso vedere se ho capito. Praticamente in qualche modo Piero Welby non si legge, si vive. Si vive la sua vicenda, non si legge la sua vicenda soltanto. Sì, Ocean Terminal, questo non è proprio un romanzo, diciamo questa scrittura fatta da 114 episodi, spesso scritti come un flusso di coscienza, come un monologo interiore, eccetera, sono certamente assolutamente aderenti al vissuto dello scrittore, tant'è che, e non è un fatto isolato quello di Piero Giorgio Welby, molti altri scrittori in questi ultimi anni in Italia hanno quasi creato un genere, se vogliamo, quello dell'autofiction, i critici, i studiosi, i lettori di professione hanno poi coniato questa definizione, l'autofiction, cioè scrivere su un fondo autobiografico, ma senza altro salvando anche la dimensione di finzionalità, di finzione. Ecco, autofiction, questo che cosa, secondo molti cosa garantisce? Che quanto viene scritto abbia un'autenticità di vita, sia un ponte poi con i fatti, gli episodi veri di una vita, gli episodi che insieme alla verità e all'autenticità siano anche episodi fuori dalla routine imposta, dalle modelli di comportamento, di sviluppo economico, di lavoro che i poteri costituiti impongono poi di fatto al cittadino. Quindi in pratica poi sfidiamo anche un po' il tema della politica, della cultura editoriale, di ciò che viene proposto, dei modelli dominanti, estetici. Lei pensa appunto che questa sorta di romanzo interiore, se così possiamo dire, non è un romanzo interiore, in realtà queste trasposizioni della propria vita inscenate, prima appunto graficamente su un romanzo, ma poi appunto trasposte teatralmente, possono essere un nuovo filone o comunque sia, possono ricevere un gradimento del pubblico, tanto da poter di appunto anche svilupparsi e poter, che poi sono molte persone purtroppo che soffrono, anche se poche come Piero o come Luca Coscioni ne hanno fatto una battaglia politica. Insomma ci sono degli spazi almeno di nicchia nella politica culturale, editoriale, dominante? Io penso di sì, sono spazi, come ha detto lei, di nicchia, non c'è dubbio, cioè non è possibile nella cultura di massa trovare spazio a questo tipo di operazioni culturali, teatrali e letterari assieme, diciamo pure che è impossibile. Si lavora sulla nicchia, cioè si tratta di tenere vivo una fiammella e sapere che con tanti sacrifici, anche economici, noi tentiamo questa operazione che sappiamo senz'altro essere un'operazione di nicchia, non possiamo lavorare sui grandi numeri, noi lavoriamo sui piccoli numeri, però siamo anche già soddisfatti se riusciamo ad andare in profondità. Quello che conta è evitare, vincere la superficialità che ci impone il mondo d'oggi e che ci impone di vivere superficialmente la nostra vita e toccare, seppur in pochi, ma iniziare questi primi tentativi attraverso l'arte di andare più in profondità nel nostro vivere. La lezione di Pier Giorgio Welby è proprio questa in fin dei conti, anche il suo dolore, la sua morte, la sua via crucis sono il segno di un impegno e di un andare da parte di Pier Giorgio in profondità e il romanzo è un segno di profondità, ovviamente, perché è una, più che romanzo abbiamo detto, va bene questa autobiografia fictional, molto fictional, ma in molti episodi Pier Giorgio va estremamente in profondità e quindi permette a noi di agire a nostra volta, grazie a lui, in profondità, ecco questo almeno ce lo auguriamo, lo speriamo e non si agisce in profondità per un pubblico di massa, ecco è una contraddizione insuperabile. Allora, professor Talfone, lei è molto gentile, voglio fare un'ultima domanda e poi in chiusura magari facciamo anche un minimo di promozione, insomma qualche dato su questa trasposizione alla Domostalenti. Le volevo chiedere questo, proprio in linea con quello che stava dicendo, qui stiamo parlando di linguaggio letterario e di teatro, di trasposizione teatrale, lei pensa che una ipotetica trasposizione cinematografica, quindi un film, potrebbe riuscire a restituire il linguaggio autentico e la vicenda in modo così profondo, ci sono stati esempi di questo tipo? Io penso di no sinceramente, rendere in linguaggio filmico Ocean Termina di Pier Giorgio Welby così, diciamo lasciandolo come è, ovviamente è impossibile come per qualsiasi romanzo, questo va da sé, però appunto essendo spesso, avendo spesso il passo del monologo interiore e quindi non essendoci un intreccio di azioni, una trama, una storia, delle storie, filmicamente è difficile renderlo, a meno che non ci sia un grande lavoro di un regista autore che lavori molto sulla visionarietà, sull'immaginazione, cioè deve fare un foco artificiale, immaginativo tramite le immagini fissate sulla pellicola, questo proprio è il sine qua non, se non si fa questo è impossibile portare in immagine filmica la scrittura meravigliosa, bellissima di Pier Giorgio Welby. Parliamo adesso appunto della trasposizione alla Domus Talenti, qualche dato e autori e così via? Sì, naturalmente il copione è tratto dal testo di Pier Giorgio Welby, Ocean Terminal, a cura di Francesco Lioce e Luca Morricone, l'interprete e la regia è la stessa persona, Emanuele Dezzoli, la direzione artistica un po' del tutto l'ho assunta io già da più di un anno fa e si terrà come anteprima, prima di poi iniziare il giro e per creare una serie di eventi scenici impegnati su Pier Giorgio Welby, si avrà appunto il 2, 3 e 4 maggio alla Domus Talenti, via Quattro Fontane. Bisogna prenotare, io adesso a memoria purtroppo non ricordo il numero di telefono, però c'è un blog, è stato creato anche un blog Ocean Terminal, quindi si possono trovare tutte queste informazioni anche sul blog e quindi invio i teleutenti, i vostri spettatori al blog stesso insomma per... Ecco, perfetto, perfetto, grazie. Accordo il numero sulla locandina, l'informazione premendita è al numero 392 15 05 171. A questo punto ringraziamo il professor Giorgio Taffone, lo invitiamo ovviamente su Libri.tv che il 13 debutterà sul web, questa piccola web tv, con una diretta che andrà dalle ore 21 alle ore 24. Grazie ancora professore. Prego, grazie ancora. Arrivederci, buon lavoro e buon caldo. Grazie.